Negli ultimi 15 anni il Tar della Toscana è riuscito nell'impresa titanica di ridurre i contenziosi accumulati in passato da 46.000 a poco meno di 8.000. Un risultato significativo rivendicato con forza dal presidente del Tribunale Amministrativo Regionale Paolo Buonvino, che proprio sullo smaltimento degli arretrati ha incentrato la relazione con cui ha inaugurato l'anno giudiziario 2014. Un risultato raggiunto nonostante l'organico ridotto. Oggi sono infatti 12 i magistrati in forza Firenze, ma ne servirebbero altri due. Quello che si spera anche attraverso un programma straordinario di abbattimento dell'arretrato di riuscire, che però è ancora in fase sperimentale, di riuscire ad aumentare il numero di ricorsi da abbattere. Rimane poi da risolvere la questione dei tempi. Se le corsie preferenziali riservate alle cause in materia elettorale o riguardanti appalti per lavori e servizi consentono al Tar di arrivare a sentenza definitiva entro sei mesi, così non è per le procedure ordinarie. Attualmente i ricorsi più vecchi, almeno in prima e seconda sezione, sono quelli del 2008-2009. Quindi diciamo si viaggia sui cinque anni mediamente al massimo. Il vero problema però è che troppo spesso si ricorre al Tar senza motivo. Se è vero che delle 1531 sentenze definitive emesse nel 2013, il Tribunale Toscano ne ha accolte meno di un terzo. Entro la fine del 2014, se non addirittura entro il prossimo settembre, la Regione Toscana conta di completare la gara per affidare a un unico gestore il servizio di trasporto pubblico locale, 100 milioni di chilometri all'anno su gomma per un corrispettivo di 160 milioni di euro. La tempistica è stata confermata dall'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli durante un convegno organizzato da Conf Servizi CISP la Firenze per fare il punto sul processo di riforma di un settore che in due terzi dell'Italia ha assunto i contorni di un'emergenza nazionale. Oggi abbiamo 1250 aziende in Italia, 55% delle quali sono comunali, tecnicamente già fallite, possono portare i libri in tribunale e purtroppo abbiamo commissariato anche diverse aziende soprattutto al sud dove i mezzi funzionano al 15%, 20%. In questo quadro la Toscana, grazie alla gara per il gestore unico e non solo, rappresenta invece un modello. Ci sono già molte offerte che sono arrivate, noi ci siamo come aziende toscane pubbliche e private e questo è un grande segnale che noi oggi vogliamo dare qui da Firenze. Siamo riusciti ad integrarci e a fare sistema superando i localismi e superando ognuno le proprie storie. Chiediamo con la stessa forza che i finanziamenti siano certi, arrivino con puntualità, si superino tutti quei lodi con le province che in qualche modo ancora attanaiono il vecchio sistema di gare. La riforma del TPL ha detto da Angeli se ormai è pronta e il nuovo governo Renzi dovrà decidere se portarla avanti o meno, dando magari maggiori certezza al Fondo Nazionale e trasporti di importanza strategica nella programmazione degli interventi. Certo non si può pensare che questo fondo cresca, credo che nelle condizioni economiche e finanziarie del nostro Paese bisogna lavorare molto sull'efficienza, ma mi sembra che questo sia quello che si sta facendo, quindi sono moderatamente ottimista. La Toscana è il primato della longevità, ma registra anche un costante aumento di persone anziane non autosufficienti. Nel 2020 saranno un quarto della popolazione complessiva, mentre la crisi economica sta mettendo in pericolo molte residenze sanitarie assistite, anche se la regione ha aumentato la copertura di assistenza domiciliare dal 2,8 al 5% e sta creando 60 nuovi posti letto che andranno ad aggiungersi ai 12.800 in funzione già nel 2012. Sui servizi socioassistenziali agli anziani, la Commissione Sanità del Consiglio regionale ha organizzato un confronto aperto ad esperti addetti ai lavori, organizzazioni sindacali e di categoria, altissima la partecipazione. La regione Toscana è la seconda regione d'Italia per popolazione anziana, siamo la seconda regione più vecchia d'Italia. È ovvio che dalla qualità delle risposte socio-sanitarie e quindi di assistenza agli anziani si misura la qualità poi di un'amministrazione regionale e anche di tutta una società. Sicuramente stamani i dati che raccoglieremo ci aiuteranno a fare valutazioni più attuali e più concrete. Poi c'è il nuovo assessore Saccardi che segue questo tema e che lo conosce in maniera molto approfondita, beh anche con lei la quarta Commissione dovrà iniziare un percorso di confronto. Percorso di confronto che comprenderà l'intero nuovo piano socio-sanitario integrato appena approvato dall'aggiunta regionale e ora all'attenzione del Consiglio. Dovremmo capire, ha detto il Presidente della Commissione Sanità, se il pensiero del nuovo assessore è in linea con i documenti trasmessi. E a me pare di no, ha concluso Remaschi. Il Presidente della Regione Enrico Rossi, che considera il piano una delle priorità di fine mandato, è avvisato. Informatizzazione dei servizi, accelerazione dei tempi di notifica tramite PEC, riduzione dei costi. La Commissione Tributaria regionale inaugura a Firenze l'anno giudiziario tributario tra bilancio dei traguardi raggiunti e uno sguardo al futuro. Al centro degli interventi dei relatori, a cui ha dato il via il Presidente della Commissione, Mario Cicala, la necessità di semplificare le procedure burocratiche e quindi i tempi del Tribunale, che negli anni hanno determinato un accumulo di procedimenti pendenti. Procedimenti che in realtà sono già diminuiti dai 12.708 del 2012 ai 5.995 nei primi mesi del 2014. In calo anche il numero di ricorsi e appelli nel 2013 rispetto all'anno precedente. Cento in meno nella provincia di Firenze e Massacarrara, qualche decina in meno a Pisa e Pistoia, diminuzione di oltre 100 casi a Lucca, Arezzo, Siena e Prato. Tra gli auspici dei relatori, la possibilità di ricorrere al giudice monocratico per le controversie che riguardano cifre inferiori ai 20.000 euro ed uno sviluppo sempre più importante delle procedure informatiche, che apriranno la strada in Toscana già a partire dalla fine del 2014 alle udienze telematiche. A una settimana dall'insediamento della nuova Vice Presidente Stefania Saccardi, il Presidente della Regione Enrico Rossi completa la rosa dei nuovi assessori, presentando Emanuele Bobbio, 34 anni, genovese parente di Norberto e ricercatore presso il Centro Studi della Banca d'Italia, e saranno centini, 40 anni, ricercatrice presso l'Università di Firenze, attivista no global, area di riferimento rifondazione comunista, scelta da Rossi dopo la bocciatura, soprattutto da parte dei renziani, dello storico dell'arte Tommaso Montanari, il primo nome ipotizzato dal governatore. Emanuele Bobbio si occuperà di scuola, ricerca e soprattutto dalla riforma della formazione professionale. Come si è detto, questa riforma non coinvolge, non riguarda solo la formazione, ma l'idea è quella di avere un approccio a tutto tondo, che riguardi sia il lato della domanda di lavoro, quindi le imprese, l'innovazione, e dall'altra l'offerta di lavoro. Bobbio ha raccontato che Rossi gli ha offerto l'incarico dieci giorni fa e di averci pensato parecchio prima di accettare. Però alla fine mi sono detto che la mia generazione deve cominciare ad assumersi queste responsabilità. Io ho studiato a lungo e è arrivato forse il momento di mettere queste competenze in gioco. Saranno centini, incinta di otto mesi di una bambina, ed è legata alla cultura, al turismo e al commercio. Questa è la sua priorità. Dare un'idea della Toscana tutta, capace di risollevarsi, a partire proprio dall'infa che la cultura può portare. Noi siamo in una fase, lo dicevamo prima, di crisi e di sperimentalismi, ci dobbiamo mettere veramente alla prova con idee nuove, senza la cultura abbiamo soltanto la crisi. In merito alla difficoltà di conciliare la maternità con il nuovo incarico, Nocentini ha dichiarato di contare sul suo compagno e sulla struttura regionale. E comunque, ci tengo a dirlo, una situazione privilegiata perché non sempre la maternità e le difficoltà della maternità si possono affrontare in questo modo e ci proveremo. Cambia qualche carta in tavola, ma la maggioranza di centro-sinistra in consiglio regionale conferma la fiducia al governatore Enrico Rossi. Dopo una lunga seduta, scandita da interventi dai toni accesi, soprattutto da parte dei consiglieri dell'opposizione, e dai continui battimenti Becchi, tra Rossi e il presidente del consiglio regionale Alberto Monaci, il partito di rifondazione comunista è uscito dalla maggioranza, con Monica Sgherri che ha scelto di non ricucire lo strappo dopo l'esclusione dalla giunta di Salvatore Allocca e nonostante l'ingresso di Sara Nocentini, anche lei compagna di partito. Per quanto ci riguarda non può applicare il vecchio detto, o mangi la minestra o salti dalla finestra, se è questo noi saltiamo dalla finestra. Non accettiamo rapporti di subalternità, non accettiamo rapporti che lui scelga per tutti noi, credendo di averci fatto felici. A sorpresa arriva il sostegno del consigliere Udc, Marco Carraresi. Questo non significa entrare ovviamente in maggioranza, non significa rinnegare il mandato agli elettori, significa semplicemente, come ha detto qualcuno, fare quest'ultimo anno, quest'ultimo miglio, condividendo nell'interesse dei cittadini toscani delle questioni e dei problemi che hanno necessità di urgente risoluzione. Diviso il centro democratico per la sostituzione in giunta di Cristina Scaletti. Vota a favore Rudy Russo dopo il pressing del PD, ma esce dall'aula la capogruppo, Maria Luisa Chincarini. Allora Rossi ha piegato l'istituzione regione toscana a interessi personali e squisitamente interni al PD. Enrico Rossi ne esce dunque con una nuova maggioranza, anche se sono sempre aperte le porte per la riconciliazione. Io mi auguro che si possa recuperare anche il voto di rifondazione, penso che non sta nella sostituzione o nell'ingresso di persone che invece è competenza del presidente, perché il presidente si sceglie la squadra, forse sta in regioni politiche più profonde, se non è così, se è legata ad un fatto contingente, sarà ovviamente recuperabile. Per trovare le coperture necessarie ad abbassare le tasse su imprese e lavoro, vera priorità per il sistema paese, il governo Renzi deve mettere mano alla spesa improduttiva, dalle concessioni alle esternalizzazioni, anche a costo di scontentare le lobby. Il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, arrivato a Firenze per illustrare ai 600 delegati presenti nella sala del Palazzo degli Affari l'accordo sulla rappresentanza siglato da CGL, CISL e Will il 10 gennaio scorso, vincola il sostegno del sindacato al coraggio che mostrerà il nuovo esecutivo nel prossimo futuro. Siccome nel paese oramai c'è uno scontro fortissimo tra la gente che produce e la gente che vive di rendita, non c'è una via di mezzo, o da una parte o dall'altra. Una scelta che deve poi tradursi in politiche economiche conseguenti. Io sono d'accordo a tassare le rendite finanziarie che in Italia si tassano almeno la metà rispetto ai nostri paesi concorrenti, non i bot o altro ancora, significa andare contro la nonna e la zia, significa andare anche contro il debito pubblico. Sul fronte del lavoro in ogni caso il sindacato è pronto a fare la sua parte, soprattutto attraverso il nuovo accordo di rappresentanza firmato dai confederali che, sottolinea il numero uno che servirà ad attrarre investimenti esteri in Toscana. Supera il mezzo miliardo di euro il danno erariale che emerge dalle pratiche in carico alla sezione toscana della Corte dei Conti, secondo i dati diffusi in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Nel 2013 l'ammontare delle richieste di risarcimento avanzate dalla Corte nei riguardi di amministratori, funzionari e agenti pubblici sono quintuplicate. Sempre nel 2013 sono pervenute alla Procura 1.745 denunce di danno erariale, che si sono aggiunte alle oltre 3.000 pendenti dall'anno prima. L'esame dei conti economali, ha detto il presidente Francesco Pezzella, ha evidenziato ancora una volta gestioni confuse e dense di irregolarità. Da segnalare che le sentenze di condanna vengono eseguite con la possibilità per i condannati di rateizzare le somme che devono restituire fino a 90 anni, quindi molto al di sopra delle loro aspettative di vita. Per quanto riguarda le indagini sugli stipendi dei dipendenti del Comune di Firenze, la Corte ha precisato che le verifiche hanno messo in luce un uso inappropriato e distorto della contrattazione decentrata. Del tutto illegittimi, invece, ha detto la Corte, i ricorsi presentati dai gruppi consigliari in regione, contro la richiesta di documentare le spese fatte con fondi pubblici. No autostrada, sì Aurelia pubblica e sicura. Questo è lo slogan con cui alcune decine di rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, Movimento 5 Stelle, SEL e comitati NOSAT hanno manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale a Firenze per dire no alla realizzazione dell'autostrada tirrenica e alla privatizzazione dell'Aurelia. Non vogliamo che un bene appartenente alla collettività, un bene pubblico, che interessa tre province, Livorno, Grossete e Viterbo, venga scippato alla collettività per essere regalato a una società per azioni, la SATSPA, che ne farà un'autostrada di serie B, tra l'altro, ma la più cara d'Europa. La richiesta alla Regione è quella di ritirare il progetto autostradale approvato dalla Giunta per la privatizzazione del tratto stradale che collega le località della costa toscana. Forze politiche, cittadini e comitati chiedono che l'Aurelia sia messa in sicurezza nei tratti più critici e mantenuta pubblica. Gli scali della Toscana parlano sempre più argentino. L'imprenditore Vito Gamberale, che con la sua aeroporti holding detiene il 33,4%, ovvero la maggioranza della società di gestione dell'aeroporto di Firenze, ha raggiunto l'accordo per vendere per 40 milioni di euro il proprio pacchetto azionario a Cedicor, società che fa capo al gruppo argentino Corporación America del magnate Eduardo Eurnekian, l'uomo che sta per formalizzare anche l'acquisto del 23% dell'aeroporto Galilei di Pisa, cui aggiungerà presto anche il 3,9% per ora nelle mani di MPS e diventerà di fatto il socio di maggioranza in entrambi gli aeroporti toscani. L'accordo tra Eurnekian e Gamberale si è perfezionato sui 13,42 euro ad azione, circa due euro e mezzo in più del valore di borsa del titolo, segno che per Peretola è previsto un ulteriore sviluppo. Ma il magnate argentino, durante un incontro a Roma con il presidente Enrico Rossi, ha annunciato 100 milioni di investimento sull'intero sistema aeroportuale toscano. E questo impone un'accelerazione sia sulla costituzione di una holding unica che gestisca in sinergia i due scali, sia sulla risoluzione dell'annosa questione della lunghezza della pista di Peretola. Ma qui la palla passa alla politica. I Renziani, insieme ad ADF e forti anche del parere tecnico di Enac, vorrebbero una pista di 2.400 metri che permetterà il decollo di aerei a medio-lungo raggio in grado di volare a Mosca o negli Emirati Arabi. Un servizio già svolto però da Pisa. Ecco perché la regione che punta a un'effettiva integrazione piuttosto che alla concorrenza tra i due scali preferirebbe per Peretola una pista da 2.000 metri. Lunghezza, peraltro, inserita nella variante al piano di indirizzo territoriale che deve essere ancora approvata in via definitiva dal Consiglio regionale ed è il frutto di un complesso lavoro di mediazione politica. Finalmente vengono attivati in Toscana gli sconti sull'IRAP per le aziende che finanziano iniziative culturali o contribuiscono alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio. La Giunta regionale ha dato il via libera a relativo regolamento che prevede di scontare sull'IRAP il 20% di quanto investito, ad esempio per un festival teatrale o il restauro di un quadro o di un edificio vincolato. I beneficiari dei finanziamenti dovranno essere antipubblici o privati e associazioni senza scopo di lucro con l'esclusione di banche, fondazioni bancarie e assicurazione. Lo sconto si attiverà nel 2015 con la dichiarazione dei redditi maturati quest'anno. Insomma in questi tempi di crisi la Regione continua a puntare su cultura e paesaggio. Per questo non abbiamo tolto un euro da quelli che sono investimenti della Regione, però vista anche la situazione com'è se riusciamo a incentivare anche un intervento del privato e dare ad esso anche delle facilitazioni, pensiamo possa essere una cosa virtuosa che peraltro vedo stanno osservando anche le altre Regioni. Le domande presentate in Regione per beneficiare dello sconto sull'IRAP saranno accolte in base all'ordine di presentazione fino all'esaurimento del milione di euro stanziato dalla Regione a copertura del mancato introito dall'IRAP. Novità per le varie misure di sostegno finanziario della Regione alle micro, piccole e medie imprese toscane. L'assessore al lavoro Gianfranco Simoncini ha spiegato che alcune agevolazioni subiranno uno stop temporaneo per il cambiamento del gestore, ma ad aprile gli interventi ripartiranno, sia per quanto riguarda il fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso zero, che sul fronte delle garanzie per liquidità e investimenti è della parte relativa all'imprenditoria giovanile e femminile, che si sposterà essenzialmente sulle garanzie perché le risorse per l'anticipo degli interessi, stanziate per tre anni, sono terminate in un anno soltanto. E da questo punto di vista noi stiamo lavorando a predisporre una nuova legge che possa ampliare gli interventi, però spostando molto sul tema del microcredito, dei piccoli prestiti per le imprese. A suo tempo la Regione aveva stanziato per i piccoli prestiti 5 milioni di euro, ma le richieste hanno superato i 15 milioni e quindi adesso la Giunta sta cercando di reperirne altri 10 nel proprio bilancio per coprire il fabbisogno. Dei nuovi fondi strutturali 47 milioni saranno destinati proprio agli aiuti alle imprese. 47 milioni che come minimo avranno un effetto leva 10, cioè con 47 milioni noi potremmo attivare un credito per le imprese che è sicuramente superiore a 450-470 milioni. Arezzo è la città del lavoro. Il 54% degli abitanti infatti ha un impiego contro una media regionale che si ferma al 44%. Per questo motivo il presidente Enrico Rossi, giunto alla quindicesima tappa del suo viaggio in Toscana, come prima cosa arrivato in città, ha voluto incontrare i rappresentanti delle categorie economiche, industriali, agricoltori, commercianti, tutti schierati nella sala del Consiglio Comunale di Arezzo per chiedere alla Regione di non lasciarli soli in una fase in cui l'uscita dalla crisi sembra portata di mano. La mia opinione è che bisogna conciliare la difesa del manifatturiero, il turismo, la cultura, su cui si fanno qui anche altri interventi come il recupero della fortezza finanziato anche dalla Regione Toscana attraverso i fondi comunitari e poi i nuovi fondi comunitari metterli soprattutto a disposizione dell'impresa dinamica che produce, che è sana, che si sviluppa perché questa possa trainare anche il resto della Toscana. E saranno 800 milioni per la precisione i fondi europei che la Toscana potrà destinare alle imprese virtuose e capaci di innovare. Nel suo viaggio nell'Aretino poi il governatore, dopo un blitz al cantiere della fortezza Medicea per ammirare i resti di una domus romana venuta alla luce durante i lavori di ristrutturazione, ha fatto tappa all'ospedale San Donato. Qui ha incontrato medici e volontari, ringraziandoli per essere riusciti con il loro lavoro a mantenere elevati gli standard di qualità, nonostante Italia la sanità. Dopodiché il Presidente è ripartito per visitare altre aziende della zona, che con il loro lavoro rendono Arezzo la città con il tenore di vita più alto della Toscana, con i 36 mila euro di reddito medio, che sono otto in più rispetto al resto della Regione. Nel 2013 il Consiglio regionale toscano ha operato in un contesto particolarmente incerto, visto che la crisi economica ha reso più invasivi gli interventi dello Stato. Il rapporto annuale è stato presentato dal Presidente del Consiglio Alberto Monaci con il Secretario generale Alberto Chilini e la dirigente Gemma Pastore. Rispetto al 2012 le leggi approvate sono diminuite, passando da 65 a 60. Sono invece aumentate le proposte di iniziativa consigliare, 54 in tutto, mentre solo due proposte sono arrivate dall'Ufficio di Presidenza e non ce ne sono state di iniziativa popolare. Il Presidente Monaci ha sottolineato l'importanza del dibattito consigliare e il prezioso contributo fornito da tutti i collaboratori del Consiglio, compresi quelli dei gruppi. Insomma anche da lì arriva tanto, tanto lavoro importante. direi che a volte non magari compiutamente allineato, però questo è il frutto poi delle leggi che riusciamo a portare in fondo e normalmente, a zandere dire, sono eccellenti. L'intervento legislativo principale del 2013 è stata la legge statutaria che ha ridotto il numero dei consiglieri da 55 a 40 a partire dalla prossima legislatura. È un viaggio in treno molto particolare, quello messo in scena dalla compagnia Nagasaki Swing Team. Un viaggio stile anni venti a ritmo di musica che ha dato il via alla nona edizione di Danza in Fiera, la rassegna internazionale dedicata al mondo del ballo che fino a domenica 2 marzo animerà i padiglioni della Fortezza da Basso a Firenze. A inaugurare la manifestazione è stato il vicesindaco della città Dario Nardella che si è poi accomodato anche lui in platea insieme al patron di Danza in Fiera per assistere a The Swing Express, show in bilico tra il viaggio in treno e il viaggio nel tempo. Tra gli obiettivi della rassegna di quest'anno, comunque oltre a far ballare grandi e piccini come sempre, c'è anche quello di tirare fuori dalla crisi il settore della danza. La crisi sta facendo pagare le famiglie, di conseguenza alcune famiglie tolgono i bambini dalla scuola di danza perché diventa un peso e questo effettivamente va a colpire quelle parti ricreative e anche didattiche che purtroppo molte famiglie non ci fanno più a far fronte. Per questo l'organizzazione ha previsto lezioni di ballo ed esibizioni gratuite cui potranno partecipare visitatori di ogni età.